Buon compleanno a Coldiretti Treviso, l'organizzazione degli agricoltori trevigiani che ha festeggiato il settantesimo anniversario della sua fondazione in occasione della giornata del ringraziamento a Vittorio Veneto. 70 anni sono passati dal lontano 12 novembre 1945, quando a pochi mesi dalla liberazione 12 agricoltori e un geometra firmarono l'atto costitutivo della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Treviso, quella che oggi con circa 18.000 associati e 8.000 aziende rappresenta l'organizzazione agricola più importante per numeri associati della marca trevigiana. Un compleanno caduto nell'anno di Expo, dove Coldiretti ha riaffermato i valori della sua storia e l'importanza del settore primario in Italia, in Europa e nel mondo. Lo vediamo nei nostri mercati, il consumatore c'è vicino, ha capito che l'agricoltura italiana ma soprattutto l'agricoltura che Coldiretti vuole è un'agricoltura di qualità, è un'agricoltura fondata sui prodotti e il territorio ma soprattutto nella massima trasparenza. Noi vogliamo l'etichetta, vogliamo che il consumatore non sia ingannato ogni giorno dall'etichetta fasulle o che sia spacciato per prodotti che non sono appunto di qualità e questo è il nostro obiettivo ma naturalmente vogliamo che questo continui. 70 anni di storia dell'agricoltura e del lavoro agricolo, passati dalla mezzadria alle moderne aziende che attraverso Coldiretti hanno sottoscritto un patto con il consumatore, concretizzato ad esempio in progetti come Campagna Amica, la rete dei Farmers Market, ovvero dei mercati dei prodotti agricoli venduti direttamente dai produttori. Un'iniziativa che conta una dozzina di mercati nella sola provincia di Treviso e che riscontra un successo crescente. Campagna Amica è la punta di diamante del nostro lavoro, è l'anello di congiunzione fra il consumatore e la faccia dell'agricoltore. Che intendo dire con faccia dell'agricoltore? I prodotti che vengono messi nei mercati di Campagna Amica sono quelli direttamente delle nostre aziende che vengono venduti direttamente dai consumatori che ovviamente hanno un grandissimo entusiasmo nel prendere questi prodotti. Pensate che siamo arrivati a quasi un miliardo di euro di fatturato delle aziende che complessivamente partecipano in Italia ai mercati di Campagna Amica. Non solo vendita nel territorio, lo sviluppo delle aziende agricole va anche nella direzione dell'export. vera punta d'orgoglio di tutta la Col di Retti. Esportiamo per 35 miliardi di euro e il consumatore nel mondo, un consumatore attento che ha anche un potere acquisto, vorrebbe prodotto italiano per 90 miliardi. Vuol dire che in Europa su tre cittadini due non possono avere prodotti italiani non perché non hanno soldi ma perché il prodotto non c'è. Pertanto questo fa solo che piacere, fa solo che dà soddisfazione e vuol dire che noi abbiamo imboccato la strada giusta. Quella è la qualità, della trasparenza e della sicurezza alimentare riconosciuta a livello internazionale. Le celebrazioni del compleanno di Col di Retti Treviso si sono svolte in occasione della 65esima edizione della giornata del ringraziamento con un pranzo sociale organizzato con soddisfazione dalla sezione locale della federazione. Sono orgoglioso che in questa giornata sia capitato proprio a Vittorio Vento organizzare questo evento, nessun altro. È organizzato secondo me in modo esemplare. Penso che tutti possano essere soddisfatti di ciò che abbiamo preparato qui nella nostra zona. E per i 70 anni di Col di Retti un regalo speciale da parte del tenore Francesco Grollo che nel Duomo di Ceneda ha intonato un'Ave Maria di Leoncavallo ricordando il ruolo culturale di Col di Retti Treviso con il progetto Terra Lirica. Abbiamo una terra che è straordinaria e dobbiamo ricordarci che veniamo tutti dalla terra. Questa è una cosa fondamentale, un progetto importante musicale che racchiude un po' tutti i nostri tesori paesaggistici, culturali, artistici ma anche i prodotti della nostra terra che la Col di Retti sta portando avanti con forza e grande passione.